Helios, luce e gas, questo mondo sconosciuto. Rubrica a cura di Helios Energia S.p.a. www.heliosenergia.it Torna all'appuntamento con la rubrica luce e gas, questo mondo sconosciuto. Oggi vogliamo parlarvi dell'attivazione della fornitura del gas e lo facciamo insieme a Raffaele Di Giacomo che è responsabile del back office di Helios S.p.a. Benvenuto. Grazie Valentino, buongiorno a te. Cosa bisogna fare per attivare la fornitura del gas? Cosa deve fare il cliente? Perfetto, allora un cliente che non è provvisto di una tubatura gas nella propria abitazione può tranquillamente rivolgersi a un nostro punto vendita dislocato sul territorio e chiedere come procedere. Noi gli facciamo semplicemente predisporre un documento con tutta l'anagrafica e l'indirizzo della fornitura e cureremo la pratica per conto del cliente stesso. Invieremo il tutto al distributore del gas locale il quale eseguirà un sopralluogo. Dopo il sopralluogo il tecnico del gas ci comunicherà per il tramite della società il preventivo. Questo preventivo noi lo sottoporremo al cliente il quale in fase di accettazione procederà a comunicarci la sua volontà di procedere. Tutta la procedura tecnico-amministrativa quindi si è conclusa, per cui il cliente ha già il gas? No, in verità il cliente non ha ancora il gas perché in questo caso è stata trasportata solo la staffa, ovvero la tubatura del gas. Il cliente in questa fase adesso deve intervenire con il proprio tecnico, il proprio caldeista e il proprio installatore dell'impianto all'interno dell'abitazione e deve fornire tutta la documentazione necessaria a provare che l'impianto all'interno dell'abitazione è stato eseguito a regola d'arte, che c'è la tenuta di pressione, quindi che il gas naturalmente non fuoriesca perché delle eventuali perdite possono essere abbastanza dannose. Questa documentazione naturalmente il cliente la presenta alla Helios, sottoscrivendo da adesso l'utente diventa effettivamente cliente perché adesso il cliente manifesta la sua volontà di avere il gas, quindi deve esserci il cliente, il distributore che trasporta il gas e deve esserci una società fornitrice, appunto la Helios, che fornisce il gas al cliente. Ci porta tutta la documentazione, noi la trasmettiamo, ecco ancora una volta la Helios va a sostegno del cliente, trasferiamo tutta questa documentazione al distributore il quale procederà all'accertamento. Se l'accertamento è tutto ok, in questa fase il distributore ci dice che è tutto ok, siamo pronti a installare il contatore e quindi dare la fornitura di gas al cliente. Noi contattiamo il cliente e concordiamo una data, un appuntamento dove lui sia presente direttamente o tramite di un delegato all'incontro con i tecnici della distribuzione, i quali in questo caso andranno dal cliente, monteranno il contatore, faranno l'ulteriore verifica della denuta dell'impianto e della pressione dell'impianto del cliente e dopodiché il cliente avrà appunto la fornitura del gas definitivamente. E allora vi abbiamo parlato per la rubrica Luce e Gas, questo mondo sconosciuto curata da Helios SPA dell'attivazione della fornitura del gas e lo abbiamo fatto con Raffaele Di Giacomo che è responsabile del back office di Helios SPA. Grazie. Grazie a te. Helios, luce e gas, questo mondo sconosciuto, rubrica a cura di Helios Energia SPA, www.heliosenergia.it